Fare presto è la richiesta che sindacati, amministratori e imprenditori hanno inviato al governo affinché provveda a dare il via all'allungamento della pista dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. Un progetto che rappresenta l'occasione per lo sviluppo dello scalo, destinato a diventare un punto di riferimento anche per la vicina Basilicata, entrata nel capitale della società di gestione con 1,2 milioni di euro. Noi siamo ottimisti, dalla riunione che fu fatta a fine febbraio presso il MEFA alla presenza di tutti gli enti fu definito un cronoprogramma. Questo cronoprogramma stabiliva nel primo aprile il rilascio del decreto interministeriale per la concessione globale 25 annale, che è quello che l'aeroporto di Salerno aspetta da 20 anni e che poi darà il via libera a tutto, perché con questo decreto si potranno fare il bando per i lavori e si potrà poi realizzare il prolungamento della pista. Abbiamo sforato un po' quella data perché sono state chieste negli ultimi tempi alcune integrazioni al PEF, piuttosto che altri documenti che la SPA ha prontamente trasmesso. Ora stiamo aspettando questo decreto. È chiaro che la nostra unica fretta come Regione Campania è che è legata alla necessità di pubblicare immediatamente il bando già pronto per il prolungamento della pista, perché altrimenti non riusciremo a intercettare quei fondi famosi dello sblocco Italia che il 31 dicembre potrebbero scadere, uso un termine non corretto. Quindi la nostra preoccupazione è che si faccia presto perché altrimenti senza concessione non si può fare il bando, senza il bando non si può rispettare la scadenza del 31 dicembre. Quindi ogni giorno è importante. Io proprio ieri ho sentito il MEF sollecitando, dando questa priorità. Voi ci avete chiesto di fare spese entro fine dell'anno, se non ci date il decreto non potremmo realizzare questa spesa. Il bando è già pronto, si tratta semplicemente di pubblicarlo, poi ci saranno credo i 60 giorni per espletare il bando, poi la commissione, poi va affidato, speriamo non ci siano ricorsi, insomma i tempi sono strettissimi ed è l'unica preoccupazione che abbiamo. Siamo in attesa soltanto di avere la concessione da parte del, che è un decreto interministeriale, da parte del Ministero dell'Infrastruttura e da parte del Ministero dell'Economia e Finanza, dopodiché ci sarà l'approvazione del progetto definitivo, così come recita il decreto Sblocca Italia e noi siamo già pronti, perché da tempo abbiamo già preparato tutto per il bando di gara. Quindi noi aspettiamo di avere queste autorizzazioni per partire con la pubblicazione del bando, perché la cosa importante, signori miei, siamo già ad aprile e il lavoro non inizia soltanto, non si conclude con la firma dell'atto, ma da allora inizia il vero lavoro che ci impegnerà tutti quanti. Quindi ogni giorno che si perde si moltiplica per tre nella realizzazione finale dei lavori.